Buonasera, sono a Chiari alla bottega del gelato, caffetteria, gelateria, volevo dire, volevo comunicare a tutti i miei sostenitori che vi aspetto nel mese di ottobre, la data precisa me la devono comunicare molto probabilmente all'Arena di Verona dove canterò una canzone Anna è in città e canterò la canzone dedicata ad Anna Ranno, la mia amica di Trapani che ho sempre portato in un cuore e che gli ho sempre riferito queste due parole, Anna ti voglio bene, non ti invidio, una brava ragazza di Trapani, anche io sono un bravo ragazzo e ho deciso di portare questa canzone dedicata a questa donna anche a Verona perché premesso che a me piace questa canzone, nei miei 350 brani inediti sicuramente cercherò di farmi valere e di avere rispetto dell'ambiente in cui mi trovo e soprattutto di essere umile in compagnia dei miei professori che sicuramente mi faranno fare una gran bella figura. Vi ringrazio tutti e poi vi aggiornerò per il proseguo. Viva la musica di Gianfranco Lombardi e soprattutto viva l'Arena di Verona.